Sul terreno amico del Nicolino Marcantonio il Cepagatti Red Devil si è atteso dal penultimo turno casalingo della stagione che lo vedrà opposto al Popoli. Per i ragazzi del presidente di Nicolantonio la stagione volge all'epilogo con l'obiettivo playoff ormai sfumato ma con le ultime gare che serviranno alla dirigenza per valutare il da farsi in vista della prossima stagione che negli intendimenti sarà quella della svolta dopo il campionato interlocutorio e di transizione che si avvia alla conclusione. In via teorica le motivazioni per la gara odierna dovrebbero essere di gran lunga superiori per il Popoli, attanaliato nella morsa dei playoff ormai inevitabili e costretta a fare punti per collocarsi nella migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare fondamentale per usufruire dei benefici al momento di disputare i playoff. Come in tutti i campi di gioco della penisola viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il ciclista Michele Scarponi prematuramente scomparso in seguito ad un tragico incidente stradale. Passano appena tre minuti e la gara si incanala verso una direzione ben precisa ed è a forti tinte biancorosse. Il Cepagatti va infatti al fulmineo vantaggio con Ortolano che finalizza una devastante ripartenza imbastita da Falone rifinita da Gianmarino che va a completare la triangolazione con Ortolano il quale va a bersaglio sfruttando la corta rispinta dell'estremo ospite. La reazione dei ragazzi di Mister del Beato si evidenzia nell'immediato con il temibile diagonale di Santoro a ridosso del vertice d'aria piccola che spedisce alla sfera di infrangersi sull'esterno della rete. I padroni di casa si rivedono con un paio di iniziative ravvicinate dalle parti di Giannessa chiamato in causa dalla devastante irruzione di Gianmarino che viene annullato dalla providenziale chiusura dell'estremo ospite successivamente impegnato anche dal gran diagonale di Amedoro. Il monologo del Cepagatti viene intervallato da fugaci apparizioni della squadra ospite che al sedicesimo prova a far male con l'irruzione in area piccola di Tavani il quale tenta il numero sullo spiovente di Berganzi dalla destra ma il suo spettacolare intervento si rivela poco incisivo con la sfera che non inquadra il bersaglio grosso. Scampato il pericolo il Cepagatti torna in cattedra e dopo aver fallito una buona opportunità allo scoccare della mezz'ora con l'intervento providenziale del regattivo Giannessa sul diagonale in corsa di Falone perfeziona il meritato raddoppio con Buccella che regala il secondo dispiacere di giornata al pur bravo estremo del popoli castigato con un diagonale ravvicinato sul palo opposto al culmine di una offensiva corale che vede come interpreti di supporto anche i mobilissimi Ortolano e Gianmarino. Poco dopo lo stesso Gianmarino cerca in mano di partecipare al festival del gol ma sulla chiusura dello scambio in velocità con Buccella spara alto da distanza ravvicinata. E un minuto dopo tocca a Buccella riprovare a sfondare il fortino del popoli con un piazzato dal limite che si spegne insidiosamente sopra la trasversale di Giannessa ed è il popoli l'ultimo acuto del primo atto con il palo centrato da Santoro direttamente dalla bandierina. Ed è lo stesso Santoro anche l'occasione che va ad inaugurare la ripresa delle osterità con un gran siduro dal limite che si spegne pericolosamente sul fondo. Dopo la replica cepagattese di Gianmarino che svetta sulla pennellata al centro di Falone ma non trova lo specchio della porta arriva l'ultimo a fondo della gara da parte della truppa ospite che crea una nuova insidia col solito Santoro poco fortunato nella finalizzazione. I biancorossi di misteri del castello tornano a dirigere le operazioni e dopo aver creato una buona opportunità con Buccella che avanza in percussione solitaria e scalda i guantoni a Giannessa costringe quest'ultimo a capitolare al diciannovesimo per effetto della conclusione di Ortolano che firma il tris con un tiro che passa tra le gambe del marcapitato estremo ospite sfruttando al meglio l'intelligente apertura di Gianmarino in versione assistman. Dopo una breve pausa la pressione del cepagatti torna ad evidenziarsi nelle fasi calanti del match. Al trentadresimo Giannessa guadagna comunque la sufficienza in pagella arginando anche il doppio tentativo in area di Buccella e di Ortolano sulla ribattuta. Due minuti dopo lo sgusciante Buccella si accentra dalla sinistra a caccia di un pertugio per far scoccare il suo destro dal limite ma non ha fatto i conti con il solito Giannessa che argina la battuta del 7 bianco-rosso. Il risultato si rimpingua prima del triplice fischio con le reti segnate in rapida successione da Buccella autore del tris personale grazie ad un perfetto aggancio al limite sul traversone del neo entrato Marcucci che gli permette di prendere la mira indirizzando la sfera sull'angolo più lontano e poco dopo con Ortolano che festeggia la sua tripletta personale ribadendo in rete da distanza ravvicinata dopo la precedente ribattuta di Annel sullo stesso Ortolano ben imbeccato dal suo collega di reparto Buccella. Vittoria rotonda del Cepagatti Red Devils al cospetto del Popoli la stagione è stata forse al di sotto delle aspettative, una stagione transitoria ma oggi si può festeggiare perché il successo è ineccepibile, segretario Antonio Di Nicolantonio. Sì, in effetti oggi è andata bene qui sul campo nostro di Cepagatti era l'ultima partita casalinga e quindi ci tenevamo a ben figurare in effetti venivamo da un po' di risultati un po' non proprio positivi nonostante comunque abbiamo sempre ben figurato e abbiamo sempre cercato di giocare bene al calcio purtroppo non arrivavano i risultati con oggi abbiamo chiuso il campionato con una salvezza tranquilla e un metà campionato il gruppo è forte e quindi noi poi ci riproveremo l'anno prossimo ad ambire a risultati un po' più in alto e magari centrare anche la zona playoff. Sono molto contento, oggi è una bella giornata di sport e sono contento anche per i ragazzi perché sono i primi ad impegnarsi, i primi che ci tenevano a fare bene dopo qualche risultato non tanto utile. E il Popoli vista l'opera oggi forse non fa testo, questa squadra ha bisogno di punti con altre squadre evidentemente? Ma questo non so se in effetti è così perché comunque ho visto alcuni buoni elementi tra le loro fila è comunque una squadra che ci teneva sicuramente a vincere vista la posizione di classifica probabilmente noi a inizio campionato dovevamo avere una marcia in più però oggi ce la siamo giocata forse anche alla pari con loro visto che comunque i punti che ci dividevano non erano così tanti e io penso sempre che alla fine i punti sono effettivamente lo specchio di quello che è la stagione quindi un in bocca al lupo anche al Popoli per il proseguo del campionato sperando che possano comunque rimanere nella categoria. Fabrizio Dicino invece è il vicepresidente del Cepagati Red Devils come dicevo anche con il segretario quest'anno è andata così vi state togliendo delle soddisfazioni di fine stagione però vi aspettavate sicuramente di più dalla squadra. Sì infatti come lei ha ben detto quest'anno veramente ci siamo trovati in tante situazioni particolari diverse da gestire però io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno nel senso che è stato il primo anno in prima categoria abbiamo imparato a conoscere che significa stare in prima categoria abbiamo ancora di più curato i dettagli per cui io che sono vicepresidente poi insieme alla persona di Gianni Tatilli che è il nostro carissimo tifoso e il primo presidente Red Devils e poi il nostro presidente Fabrizio Dicolo Antonio il segretario Antonio Dicolo Antonio tutti e quattro come un vero quadrato, una testuggine abbiamo sempre cercato di trovare la soluzione il nostro campionato inizia da oggi è importante dire questo noi non siamo banali quando dico che inizia da oggi significa che noi sono già due settimane che abbiamo detto alla squadra che da oggi in poi volevamo ottime prestazioni perché tutti noi ci stiamo giocando il posto per la stagione successiva per cui noi questo 5-0 di oggi è un 5-0 che appartiene non tanto a questa stagione ma a quella che verrà quella sportiva che verrà perché sicuramente vogliamo il prossimo anno raggiungere qualche tassello per essere competitivi competitivi significa senza troppi giri di parole cercare o di vincere il campionato o di arrivare nelle prime posizioni perché ci siamo resi conto che abbiamo tanta qualità abbiamo un campo eccezionale abbiamo una tifoseria che sta sempre di più appassionandosi e soprattutto abbiamo tanti tanti sponsor che ci vedono come modello da seguire perché prima di essere calciatori siamo degli uomini dai grandi valori che rispettiamo l'avversario rispettiamo l'arbitro, rispettiamo tutti e vi invito anche a parlare con i diversi arbitri che ci hanno gestito le partite anche quando abbiamo subito purtroppo dei torti ci siamo sempre comportati da gentiluomini perché comunque una volta che l'arbitro ha deciso è inutile stare a perseguitarlo perché non si può cambiare ciò che già è successo per cui siamo molto fiduciosi e sicuramente vi anticipo questo andremo a giocare a Modo Paganica e a Sant'Anna le ultime due trasferte con il coltello tre denti quindi se coloro di queste società vedranno sicuramente perché comunque i video che carica il nostro carissimo Calabrese sono seguitissimi su YouTube sicuramente vi mando un avvertimento e andremo per fare partita e per ottenere sei punti a di là della salvezza già matematica perché comunque stiamo a più sei sulla quinta ultima per cui basteremo un pareggio per non vedere un po' le classifiche avulse però sicuramente andremo giocheremo per ottenere sei punti e per fare la miglior classifica nel primo anno di prima categoria Per chiudere oltre a giudicare un po' i calciatori della squadra per la prossima stagione vi saranno secondo lei nuovi ingressi in società per rendere questa compagine ancora più solida e ambiziosa per il futuro? Io la ringrazio per la domanda perché questo è un tassello molto importante allora se vogliamo rendere in questa società ambiziosa dobbiamo lavorare su due aspetti il primo è quello di creare un settore giovanile per cui non è nero che stiamo lavorando con grandi realtà territoriali per farsi di creare un nuovo progetto che abbracci soprattutto il settore giovanile perché quando hai il settore giovanile e unisci gente di esperienza come il nostro capitano Falone Buccella, Giammarino lì puoi fare veramente il passo di qualità e ovviamente lei ha fatto riferimento ai soci è fondamentale appunto l'ingresso dei nuovi soci perché per gestire una squadra occorrono tante componenti fisiche sia durante gli allenamenti sia negli spostamenti sia a livello organizzativo e noi quest'anno abbiamo fatto una grande rivoluzione societaria siamo attualmente quattro soci e ovviamente siamo pochi poi siamo ben organizzati quello sicuramente poi abbiamo tre o quattro collaboratori a di là di noi società che sono persone fidatissime però sicuramente inseriremo altri due o tre collaboratori esterni chiamiamoli così più inseriremo due o tre soci quando parlo di socio parlo di potere direzionale quindi di nuove liquidità in cassa perché comunque essere socio dei Davis significa innanzitutto credere nel progetto e oggi il modo più concreto nel credere nel progetto è apportare liquidità e apportare denaro perché questo è uno spot in cui bisogna soprattutto investire investe denaro secondo me passione e poi raccogli giustamente raccogli rispetto raccogli riconoscimento raccogli raccogli diciamo la risposta dei giovani raccogli la collettività che ti viene a seguire quindi è un po' un'azienda un po' anomala però è una bellissima azienda perché ti dà tante soddisfazioni tanto il denaro anzi io mi auguro lavorando in banca che prima o poi non esisterà più denaro perché il denaro è un mezzo oggi bisogna parlare dei valori bisogna parlare di rispetto di umanità noi aspiriamo a questi valori quindi vorremmo sempre di più esportare questo nostro modello nei campionati che contano per cui bisogna assolutamente prima possibile salire di categoria e continuare a fare sempre meglio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti